Bodycam e dashcam per gli agenti della Polizia Municipale di Ponte Cagnano-Faiano. Se ne parla nel regolamento di utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nel territorio comunale di Ponte Cagnano-Faiano, strumenti per la ripresa di immagini che potrebbero essere messi a disposizione dai vigili urbani per migliorare i controlli in città. Si tratta di dispositivi da poter utilizzare durante lo svolgimento di servizi operativi. La bodycam è quella indossabile, mentre la dashcam è il dispositivo che può essere installato a bordo dei veicoli di servizio. Piccole telecamere il cui utilizzo va regolamentato, come avviene per gli altri strumenti di ripresa presenti in città. I dispositivi indossabili o quelli da installare nelle auto di servizio della Municipale devono rispondere a precisi requisiti. In primis per quanto concerne il loro utilizzo che necessariamente deve passare attraverso una disciplina che ne razionalizzi l'uso. Due misure insomma per rendere sempre più efficienti il lavoro delle forze dell'ordine. Il regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Ponte Cagnano-Faiano è tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si terrà domani alle 17.30 negli spazi della Biblioteca Comunale. La questione sarà tema di confronto tra maggioranza ed opposizione. In molti occasioni la minoranza ha chiesto misure più incisive, in grado di rafforzare la percezione della sicurezza in città. Il regolamento è necessario per il trattamento dei dati personali e la tutela della privacy, in linea con le normative europee.